Eccoci ragazzi La partita è quasi finita Sto facendo io il post partita L'ESC non può però è la stessa cosa Hanno appena tolto il rosso a Dominguez Non ho capito perché al VAR Non ho capito proprio Anzi qua dicevano l'intervento era bruttissimo Invece hanno tolto Però vabbè Sono entrato adesso con la Fiori e Diavara Ma che dire dalla partita ragazzi 5 a 1 E intanto vediamo il recupero Se lo danno Non danno ancora il recupero 5 a 1 Tantissima roba Tutti al primo tempo hanno annullato 3 goma Che dire dalla Roma ragazzi Scendiamo bene Benissimo in campo 3 gol in 14 minuti Con tanto che Giacomo se ne mangia Anche altri Sto facendo anche la live reaction Mi raccomando Domani alle 14 su Youtube E sarà anche molto molto divertente Ve lo assicuro Quindi Che c'è da dire questa partita Abbiamo dominato Partita perfetta Mancava Pedro perché l'hanno espulso Mancava addirittura Fonseca Nugno Coso Manco mi ricordo come si chiama La preparata Comunque l'aveva preparata Fonseca Ma è stato benissimo In panchina Comunque Giocatori tutti bene Che devo dire Giacomo deve fare di più Ma si è mangiato qualche gol Ma quando vinci 5 a 1 Al primo tempo Ci sorvoli anche questa cosa L'unica cosa brutta Cristante che si fa un autogol Mannaggia Brian Cristante E che dire Cioè tanta tanta roba Ora aspettiamo che finisca E cioè Non c'è nemmeno tanto da dire Sto secondo tempo Mi sono addormentato Nella live reaction Non ho scritto quasi nulla Infatti vedrete poco e niente Però Però regà Tantissima roba Sta squadra Buonissimo primo tempo E È tornato Pellegrini Dall'infortunio È tornato Smalling È tornato Veretù Smalling è entrato dopo Veretù e Pellegrini dal primo Benissimo Pellegrini anche da trequartista Michi d'Italia non fenomeno Benissimo Carzdorp Spinazzola Che fa Comunque presenta il primo gol Che poi è autogol Che altro da dire Tantissima roba La difesa dietro Buona Molto buona A parte Cristante E ci sono stati due gol In fuorigioco nostri E uno loro tipo Millimetrico Però vabbè Era al secondo tempo Regà Cioè Partita che Ora finisce la partita Intanto stanno vedendo Anche i ragazzi Dalla live reaction Dagli Roma E niente Leviamo un attimo Riparliamo della partita Dal primo Allora Partita perfetta Cioè Che altro ve devo dire Vediamo i verifici Giocatori uno ad uno Paolo Lopez Prende il gol Dal suo stesso Cristante Che gli devo dire Però non sbaglia Praticamente niente Anzi Fa anche una parata Che in teoria Era fuorigioco Però non lo era in pratica Quindi Pure una grandissima parata E va bene Sta riprendendo fiducia Buona Paolo Lopez Cristante si fa con l'autocall Come un coglione Però sbaglia pure qualcosina Però vabbè Lo stesso Ci possiamo sorvolare Perché è tornato Smalling Chris Is Quindi Chris Beck Daie Torna Smalling Meno male La settimana prossima Speriamo di averlo al top È giocato 3 minuti E poi che altro I bagni Secondo me diventerà una bestia Ancora gli manca tantissima esperienza Ma diventerà un fenomeno Poi chi altro Stava con Bulla Bene Poi Spinazzola Un fenomeno Il primo tempo Ovviamente Il secondo è normale Che hanno giocato tutti un po' così Perché abbiamo semplicemente amministrato Benissimo Spinazzola A destra C'era Karsdorp Molto molto bene Ancora Krampi A fine partita Non riesce a giocare 90 minuti Questo Ma molto bene Karsdorp Ha fatto anche Più di qualche assist Che poi non è diventato gol Non so se ne ha fatto qualcuno Per i gol Non me li ricordo Ora bene Perché sono stati tanti E tanti anche mangiati Benissimo A centrocampo Vigliar anche Vigliar mi piace un casino Tanta roba Vigliar Veretù Fenomeno Veretù Pilastro di questa Roma Pilastro Veretù Pellegrini In altre quarti Bene Migliare è un fenomeno Anche Pellegrini appunto E Gieco Si è mangiato un bel po' di gol Ma Una volta è stato sul 5 a 1 Vabbè Mi dispiace per chi lo ha al fantacalcio Commentate qua sotto Se tutti questi bonus Ce n'è stato qualcuno Di voi al fanto Magari Avete addirittura Al portiere del Bologna O qualcun altro Buono Buono il Nugno Campos Là come si chiama Il vice de Fonseca Questo ci dà fiducia Per settimana prossima Che non mi ricordo chi c'è Perché so Che a dicembre abbiamo l'Atalanta Ma mi sa che è tra due settimane Non settimana prossima Quindi non lo so Non mi ricordo Che abbiamo settimana prossima Però per il momento Intanto non ho ancora Stoppato a registrazione Tanta roba Rega niente da dire Migliore in campo Chi devo dire Cioè Alla fine a un certo punto Manco l'ho quasi vista più Spinazzola benissimo Veretù benissimo Diego possiamo dire forse Migliore no Perché si è mangiato Più di qualche gol Mi chiederemo benissimo Pellegrini torna benissimo Tutti bene Dai nessuno Proprio migliore in campo Non critichiamo Cristante Dai come sempre Perché non mi piace Critica ai giocatori Anche se ha sbagliato Però va bene Così rega Cinque minuti Post partita Vanno anche bene Cappottone al Bologna Speriamo bene in avanti Possiamo fare grandi cose Noi in campione Siamo addirittura La terzi Con la Juve Che deve ancora giocare Però intanto Abbiamo preso punti Dalla Lazio che ha perso E va bene così rega Dagli Roma Commentate voi Su cosa ne pensate Dalla partita Chi anche non è tifoso Dalla Roma Siamo aperti a dibattiti Parliamo Seguitemi su Instagram Trenta like ragazzi Puoi spartire Sì può spartire Live reaction domani Spolliciate Seguitemi Stiamo andando molto bene Canale Telegram E Instagram Dove vi teniamo Aggiornati in descrizione Per parlare insieme Noi ci vediamo Un prossimo video Bella ragazzi Dai Forza Roma Grazie a voi